Musica Buongiorno a tutti, siamo qui a Salsomaggiore in occasione dei campionati di società a coppie libere e signore. Nei prossimi giorni seguiremo il campionato e cercheremo di approfondire anche qualche altro argomento. So di dare un dispiacere a molti brigisti, ieri sera arrivando qui abbiamo scoperto che lo storico Caffè Romagnosi è chiuso, probabilmente per fallimento. Avremo modo di parlare con i giocatori e in questi giorni è la prima volta che ci ritroviamo tutti insieme dopo i recenti avvenimenti, dei quali avremo occasione di parlare, avvenimenti che hanno coinvolto e sconvolto il mondo del bridge. Quindi vi rimando al sito della federazione per i risultati del campionato e per tutte le altre informazioni, gossip e curiosità, seguiteci sul nostro canale YouTube. A mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. E a mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sviadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti perdi e quello che è stato mi sembra più astuto di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso nei sabato sera ma dammi la mano e torna vicino può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare può crescere un fiore da questo mio amore per te.